La comunità di Formazza in lutto si è spento nella notte all'ospedale San Biagio di Domodossola dove era ricoverato da qualche giorno Luigi Antonietti dal maggio 2007 al maggio 2012 ha ricoperto la carica di sindaco di Formazza, aveva 86 anni, se ne va una grande persona, un uomo per cui la parola data aveva ancora valore, un uomo insomma di altri tempi. Il commento di Bruna Papa, attuale sindaco di Formazza e fu proprio Luigi Antonietti a volerla in lista e poi nel governo del paese durante il suo quinquennio alla guida della paese Valser. Dipendente Enel di professione, Antonietti è stato per una vita capo della centrale di Ponte ma anche appassionato amministratore. Prima di ricoprire la carica di sindaco è stato infatti consigliere sia sui banchi di maggioranza che di opposizione una passione di famiglia, quella della politica. Luigi era fratello di Mario, storico sindaco di Formazza per parecchie legislature un uomo pacato con parole misurate ma che si è sempre speso per il bene della sua comunità. Le parole d'affetto che gli dedica oggi Bruna Papa anche a nome della paese. Luigi Antonietti lascia la moglie Silvana e i figli Nicoletta, Corrado e Lorena. Le esecue sono in programma sabato 20 aprile alle 10 nella chiesa parrocchiale di Chiesa.